Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, finalmente è arrivato il giorno dei benchmark, in realtà questa registrazione la sto facendo prima di aver effettuato i benchmark perché voglio farvi vedere tutto ciò che è stato inviato ovviamente nel press kit. Questa è la prima cosa in assoluto che secondo me è fighissima, è una gigantografia del DAI di Alderlake del 12900K, è stupenda, stampata su del metallo, veramente 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 figo, tante aziende stanno iniziando a mandare dei gadget o delle cose particolari e secondo me sono veramente fighe. A proposito se dovesse interessarvi Maya ha registrato qualche settimana fa un video dove ha mostrato praticamente tutte le varie particolarità gadget o cose uniche e particolari che sono state inviate o fornite dalle aziende nel corso dei sette anni del mio canale. Adesso direi di aprire questi due pacchetti. Partiamo da questo bianco perché all'interno di questo nero dovrebbero esserci le CPU. Mi sa che sono altri gadget particolari? Allora questo è un kit, ci sono tutti i vari cacciaviti o tutte le varie cose che possono servire quando montiamo un pc. C'è un piccolo contenitore magnetico per le viti, questo è super super comodo visto che io ogni volta le perdo in giro per il tavolo, non sono molto ordinato da quel punto di vista. Vediamo qua sotto cosa c'è. Ah, una maglietta. Ok, quindi erano tutti i gadget e poi qui dentro ci sono le CPU. Bianca, molto semplice, con sito Intel Core. Ah no, non è bianca, è un grigio chiaro. Molto molto bella, sembra anche carino al tessuto. Questo è il front e adesso possiamo aprirla. Vediamo cosa c'è. La madonna! Vi faccio vedere, anche qui c'è un die enorme. Veramente, veramente bello. Ah, e dietro c'è Alder Lake. Giustamente. Bellissimo. Ma le CPU dove sono? Eccole qui, trovate. Questo era tutto un pezzo sopra e poi ci sono le due scatoline con all'interno l'i9 e l'i5. Quindi 12900K e 12600K. In questo momento è tardi, quindi direi che non è il caso di mettermi subito al lavoro. Domani li apriamo con calma e ci sarà il continuo di questo video. E rieccoci, infatti, dopo qualche giorno con i risultati dei test. Devo dire che sono soddisfatto e sono state delle giornate impegnative. Purtroppo non è andato tutto liscio come l'olio e tra poco vi spiego il perché. In ogni caso sono soddisfatto perché finalmente vediamo la prima vera risposta di Intel a Ryzen 5000. Dico la prima vera risposta perché effettivamente l'undicesima generazione non può essere considerata come risposta. A mio parere è risultata quasi inutile. Una generazione di passaggio che non era necessaria ma Intel aveva in schedule. E questo purtroppo non lo dico solo io ma tutti coloro che hanno avuto a che fare con Intel. Non che fossero delle cattive CPU ma non giustificavano il passaggio dalla decima generazione all'undicesima. Con queste nuove CPU Alder Lake invece abbiamo un ottimo incremento. Ragazzi vedrete tra poco dei benchmark. Sono delle ottime CPU. Purtroppo però, come avevo già accennato nel video della presentazione delle schede madri, questa risposta potrebbe non durare per tantissimo. Visto che teoricamente verso gennaio 2022 dovrebbe esserci quella di AMD con le nuove CPU. Questo è un problema del futuro. Adesso vediamo che cosa è stato presentato e come si comportano. Iniziamo da quello che è stato sempre il punto di forza e il vanto da parte di Intel, ovvero le migliori performance nel gaming. E per quanto ho avuto modo di testare, Intel è riuscito a riprendersi la prima posizione. In realtà dipende dal gioco e dalle condizioni perché ormai siamo arrivati a delle performance tali e soprattutto a delle risoluzioni e delle potenze di schede video nelle quali la CPU, soprattutto se giocate in 4K, non va a creare bottleneck. Quindi le performance si allineano. Se andiamo però a vedere le performance in 1080p per chi riesce proprio a macinare di più FPS, eccetera, questa volta la vittoria, nella maggior parte dei casi, va a Intel. E come potete vedere dai risultati, le performance rispetto all'undicesima generazione sono fenomenali. Riesce anche, nella maggior parte dei casi, a stare davanti al 5950X, ovvero il top di gamma della serie 5000 di AMD. Purtroppo ormai questo tipo di benchmark con le performance a cui siamo arrivati delle CPU risultano quasi inutili perché hanno dei numeri totalmente assurdi che possono servire per garantire delle prestazioni stabili solo a pro player che lo fanno per lavoro. Cosa molto molto interessante invece a mio parere è l'i5 perché nel corso degli ultimi anni in realtà chi voleva avere le migliori performance in assoluto per giocare, per avere proprio il massimo degli FPS come abbiamo visto era quasi costretto a prendere l'i9. E finalmente posso dire che a mio parere siamo tornati al punto in cui vuoi giocare? Comprati l'i5 perché tanto praticamente non hai differenze. Batte l'11900K, il che è tutto dire, l'i5 contro l'i9. Questo è un grande salto generazionale. L'i5 proprio in tutti i vari test è quello che mi ha stupito di più. Anche se il problema di cui vi parlavo prima l'ho avuto proprio con l'i5. In realtà un po' con tutta la piattaforma ma in realtà ho scoperto successivamente che i problemi più grossi erano causati dal non aver effettuato l'ultimo aggiornamento del BIOS. Infatti dopo aver effettuato l'aggiornamento non ho più avuto nessun problema. Ho effettuato diversi test sia con Windows 11 che con Windows 10 ma alla fine ho deciso di farvi vedere solo quelli con Windows 10 perché penso siano quelli più veritieri al momento. La dodicesima generazione è molto ottimizzata su Windows 11 mentre l'undicesima per qualche motivo arranca. E anche AMD in realtà ha avuto diversi problemi che hanno poi patchato. Quindi ho deciso di rimanere sulla base più stabile che avevo e questi sono i risultati. Ho deciso di fare una cosa che non facevo da tempo ovvero testare le GPU integrate. Con l'undicesima generazione in realtà era stato fatto un ottimo salto visto che erano praticamente state raddoppiate le performance rispetto alla decima. Con Alder Lake abbiamo un ulteriore salto ma è veramente minimo. Infatti le performance sono molto simili ma anche qui la cosa più interessante è l'i5. Visto che ha la stessa scheda video e stesso tutto praticamente le performance sono identiche all'i9. Avrete visto dai benchmark che CSGO è molto molto in basso questo perché ho effettuato il test con il benchmark interno diciamo del workshop che è quello che utilizzo per tutti i test. Ma vi garantisco che è giocabilissimo infatti Valorant che non ha un suo benchmark interno offre un risultato molto più veritiero. Infatti anche su CS si può giocare tranquillamente quel benchmark è molto molto pesante. Nelle partite si riesce tranquillamente a giocare sopra i 100 fps. Per quanto riguarda Doom invece non c'è stata grande storia ma non mi sento di consigliarvi questa esperienza. Andiamo ora a vedere i risultati dei benchmark sintetici per la potenza pura di queste CPU e che numeri riescono a tirar fuori. Il primo test è quello di 3DMark che ha aggiunto un nuovo test dedicato alla CPU e qui possiamo vedere il 12900K appena sopra il Ryzen 9 5950X. E distrugge completamente le vecchie generazioni cosa molto interessante come potete vedere l'i5 che raggiunge quasi l'i9 in questo test. Su Cinebench abbiamo un risultato simile ma qui vediamo un distacco maggiore sia tra il 12900K che il 5950X ma anche tra l'i5 12600K e l'i9 11900K. La cosa assurda è che lo batte non solo in single core che fanno dei numeri assurdi, davvero. Ho giocato anche un po' di overclock e ho superato i 2000, ragazzi sono mostruosi. Altro test fatto molto in velocità, quello di CPU-Z e abbiamo sempre lo stesso risultato. E infine gli ultimi due test ovvero quello di Vray e di Blender. E qui per la prima volta vediamo il 5950X stare davanti al 12900K. Vi ricordo però che i benchmark sintetici non sono sempre affidabili al 100%, infatti a tanti non piacciono, però vanno fatti come linea di riferimento per capire la potenza massima teorica di quel processore. Infatti se ci spostiamo dal punto di vista di creatività le cose possono cambiare e queste nuove CPU sono veramente interessanti. E qui sono rimasto stupito dalla velocità perché la differenza era veramente tanta. Ma la differenza non è solo qui perché se ci spostiamo sui benchmark di Premiere, Photoshop vediamo più o meno sempre lo stesso risultato. Queste nuove CPU per il content creation e chi utilizza questo tipo di applicativi sono veramente veramente interessanti. Quelli dove c'è stato più distacco sono stati Photoshop e DaVinci Resolve. Non so se per un fatto di ottimizzazione o proprio per come funziona l'architettura interna delle CPU. Comunque vediamo un notevole salto in avanti rispetto all'undicesima generazione e anche in questo caso riesce a stare davanti al 5950Hz. Infine parliamo di consumi e temperature. Queste nuove CPU nonostante abbiano un nuovo processo produttivo scaldano e scaldano parecchio. Il 12900K ragazzi con un radiatore da 360 mm stock rimane a 83-85 gradi e sono parecchi. Non che vada in thermal throttling o altro, però non sono pochi e stiamo usando un 360 mm e soprattutto i consumi. Per quanto riguarda il 9 era tutto in linea con i risultati che avrei dovuto avere. Infatti è rimasto fisso a 240 Watt che sono veramente tanti, 90 Watt in più rispetto al 5950X. Una cosa anomala in realtà però è successa con l'i5 dove vediamo 115 Watt. Sarebbe dovuto rimanere un po' più alto, 130-150, però in realtà i risultati erano tutti in linea, quindi ho mantenuto quel valore lì. Altra cosa, se andiamo a dover clockare queste CPU, dissipatore e temperature permettendo, riusciamo a tirar fuori ancora un po' di performance. Sono arrivato quasi a 29.000, era 28.800 su Cinebench in multicore e poco sopra i 2.000 in single core. Il problema però sono i consumi. Ha superato i 300 Watt, solo la CPU. Infine parliamo delle problematiche che ho avuto. Inizialmente le ho avute solo su Windows 11. Diversi crash causati principalmente dall'XMP della memoria, alcuni anti-cheat che non vengono accettati o proprio non ti permettono di avviare alcuni giochi perché non sono attivate alcune funzioni che in realtà sono attivate. E quindi quello è il motivo principale per cui ho deciso di accantonare Windows 11 per ora per quanto riguarda i test. Con l'aggiornamento del BIOS, infatti da lì in poi zero problemi, super stabile. E l'altro problema però l'ho incontrato quando sono andato a iniziare i test con l'i5. Infatti sono stati gli ultimi test che ho effettuato, ma una volta installata la CPU il PC non voleva sapere di accendersi e mi continuava a dare l'errore che non riconosceva la scheda video. Inizialmente pensavo fosse fallata la CPU, ma poi mi sono ricordato di un problema che avevo avuto con i Ryzen 5000 quando c'è stato il passaggio a PCI Express 4.0. Infatti tolta la scheda video e avviato il PC con la scheda video interna, sono riuscito a entrare nel BIOS e ho selezionato manualmente il PCI Express 4.0 invece del nuovo standard 5.0. Era successa la stessa identica cosa con alcune X570 e avevo risolto allo stesso modo, mettendo da 4 a 3. La cosa che mi faceva strano è che in realtà con l'i9 non ha avuto nessun problema, quindi anche lì penso che si possa sistemare questo problema con un aggiornamento del BIOS. Quindi questi sono i risultati che ho ottenuto. I risultati sono veramente ottimi, finalmente devo dire, e sono davvero curioso di vedere che cosa risponderà AMD. La lotta è iniziata e finalmente vediamo da entrambe le parti dei prodotti molto molto competitivi. Ultima cosa, prima di chiudere il video voglio fare una parentesi per quanto riguarda le RAM DDR5 e il PCI Express 5.0. Per quanto riguarda le RAM, come dicevo nel video delle schede madri e dove vi ho fatto una piccola infarinatura, purtroppo attualmente cambia relativamente poco e anche con i vari kit che avevo non ho notato praticamente nessuna differenza. Bisognerà aspettare un pochino. Per quanto riguarda il PCI Express 5.0, invece attualmente, attualmente è inutile perché non c'è nulla, nulla che lo possa sfruttare. Come dicevo già, non riusciamo a saturare il 4.0, il 5.0 prima che riusciremo a sfruttarlo bisognerà aspettare un bel po'. Aumenterà semplicemente il costo finale della scheda madre anche se effettivamente non viene sfruttato. Ragazzi, fatemi sapere voi con un commento che cosa ne pensate. In descrizione trovate maggiori informazioni, trovate BlinkMyPC, i social, il canale Telegram delle offerte e direi che da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile, dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise. Trovate il link in descrizione. Grazie a tutti!